ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video tutorial su photoshop per la fotografia digitale in questo video vi spiegherò come realizzare una foto del genere questo effetto va molto di moda negli scatti glamour e di moda quindi andiamo subito a vedere come funziona ci da dire che viene meglio su una foto in esterno con una luce molto forte e intensa però va bene su qualsiasi altra foto quindi provate provate su tutte le foto che avete voi iniziamo subito andando a duplicare questo livello con ctrl j e andando su filtro distorsione bagliore diffuso andiamo a modificare le impostazioni in alto a destra in base alla nostra fotografia ora io come granulosità tengo 1 per avere una granulosità della foto molto bassa e vado ad aggiungere un po di bagliore però per esempio a 2 in questo modo e aumento l'area trasparente in modo da avere il bagliore soltanto sugli estremi della mia immagine ovviamente queste impostazioni variano in base alla foto che avete voi premo su ok e ritorno nella schermata principale di photoshop ora io vado ad aggiungere un filtro fotografico e la prima cosa da fare è aumentare la densità da 25 per cento a 100 è importante anche avere selezionato mantieni luminosità altrimenti non viene questo effetto clicchiamo sul colore ora scegliamo il nostro colore potete scegliere qualsiasi colore vogliate io scelgo un colore rosso per questo esempio e premo ok e poi andiamo a cambiare il metodo diffusione da normale a luce soffusa in questo modo adesso creiamo un altro livello valori tonali il vecchio livelli e portiamo lo slider dei neri verso destra fino a che non cominciamo a bruciare parti della fotografia e renderle in questo modo più scure e andiamo anche a portare lo slider dei valori tonali in output verso destra questo slider qui ci toglie il nero dalla foto ovvero se qui i colori neri sono proprio neri andando a portarlo verso destra il nero diventerà un grigio e quindi non avremo più un vero nero nella nostra foto andiamo poi a creare un nuovo livello cliccando su questo bottoncino qui e cambiamo il metodo di fusione di questo livello da normale a scherma lineare aggiungi e prendiamo lo strumento gradiente che è questo strumento qui scegliamo dal nero al trasparente che è il secondo di questa fila da colore primario trasparente e prendiamo anche lo strumento radiale che è sempre il secondo della fila ovviamente qui lasciamo sul normale 100% visto che abbiamo già cambiato il metodo di fusione da normale a scherma lineare aggiungi prima andiamo a selezionare il nostro colore primario in base al colore che vogliamo dare alla nostra foto io prima ho usato il rosso quindi utilizzerò il rosso anche in questo caso e vado a creare delle linee da dove proviene la luce quindi da destra ora più sono lunghe queste linee e più il cerchio che verrà creato sarà sfumato e quindi avrà un effetto molto morbido e creo queste linee fino a che non sono compiaciuto del mio risultato ora se c'è qualcosa che non vi torna come per esempio io trovo troppo bagliore sulla bambina posso semplicemente andare a creare una maschera di livello sulla bambina e con il colore nero andare a togliere un po di bagliore dalla nostra bambina ok possiamo anche regolare l'opacità del livello colorato in alto se vogliamo e come vedete il risultato è già ottimo da prima a dopo ora io ho creato già un altro livello per farvi vedere come funziona anche in questo caso ho fatto lo stesso procedimento se però quando arriviamo alla fine troviamo che il colore rosso stoni con la nostra immagine in questo caso ho usato un filtro colorato intorno al verdognolo giallo possiamo semplicemente selezionare il livello 2 andare su immagine regolazioni tonalità saturazione e cambiare la tonalità che è il primo slider in questo modo cambiando la tonalità verrà cambiato anche il colore che abbiamo dato nel nostro nuovo livello e quindi possiamo andare a dare qualsiasi colore alla nostra luce per esempio anche un colore viola blu a me piace molto potrei lasciare così come vedete sta tutto a voi scegliere l'importanza del bagliore anche in questo caso per esempio ho tolto il bagliore da dentro il corpo dei nostri soggetti e l'ho lasciato soltanto sui capelli e sull'esterno della foto come avete visto è un effetto semplicissimo e che dà dei grandi risultati io vi ringrazio anche per aver visto questo video tutorial come ho detto all'inizio provate questo effetto su qualsiasi foto perché verrà sempre ad ogni foto un risultato efficiente e molto di impatto visivo se avete voglia di dare altri colori alla vostra foto come abbiamo fatto in questo video potete anche andare a riguardare il video del cross processing che trovate nella playlist dei miei video dove anche lì spiego come creare un effetto simile andando però a usare le curve e non i filtri fotografici io vi ringrazio ancora per aver visto questo video iscrivetevi al canale iscrivetevi a facebook per tutte le novità un saluto e ciao 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 Grazie a tutti.